Salve a tutti e bentornati sul mio canale youtube. Oggi vi presento questo alan 48 un po un po datato e che sinceramente non ho mai visto un alan 48 in si fatte condizioni. Quindi guardate un po che cosa vi faccio vedere. Abbandonato a se stesso, agli eventi atmosferici naturalmente. Chiara infiltrazione di acqua dove era conservato. La manopola è talmente ossidata che il bocchettone qui del microfono è talmente ossidato che non si svita. Queste sono le condizioni del microfono. Vediamo il lato di sotto ed ecco il lato di sotto. Non sta messo proprio bene, perlomeno per quanto riguarda i cofani non sta messo bene. La parte posteriore. Ecco la parte posteriore. Si tratta di un made in Thailand. Adesso lo apriamo e vediamo all'interno cosa è successo. Senza problemi sono riuscito ad aprirlo. Le vite laterali erano proprio affogate nella ruggine. Vediamo un po. la prima vista. Sembra tutto ok. Bisogna solo... Qui hanno messo tanta di quella cera. Come se... Citando un grande appassionato di Alan 48 come se non ci fosse un domani. Qui ci sono effettivamente dei grossi problemi di ruggine ma vedremo di risolverli al meglio. Qui.